Ehm, si, è successo veramente, ho giocato a Minecraft Però, vabbè, vedete il video Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale Allora, partiamo dal presupposto che l'inquadratura è leggermente diversa Perché ho fatto di tutto per far vedere il più possibile la maglietta Bomber Quindi apprezzatemi per questo E oggi soprattutto siamo qui tornati con un altro video molto simpatico Sulla falsariga del cosa succede se guardo un mio video con i sottotitoli Che tra l'altro vi è piaciuto moltissimo e quindi tornerà prossimamente Fatemi vedere anche sotto questo video comunque il vostro supporto In modo che ve lo porto il prima possibile Ma oggi signori siamo qui con un video Vabbè, dire che è epico mi sembra riduttivo Quindi facciamo epicissimo Fatto sta che sì, come avete letto dal titolo, ho giocato a Minecraft Ma non giocherò a Minecraft in questo video Bensì andremo a vedere me che ho giocato a Minecraft Perché è abbastanza imbarazzante Però per chi seguisse anche Noxer sa già di cosa sto parlando Perché signore, signori e signorine Il video in questione è questo qui La vera Noxer Che ha già raggiunto 2050 visualizzazioni E ben 226 like Tra cui quello del sottoscritto Quindi ovviamente dobbiamo far arrivare questo video minimo A 500 like E le visualizzazioni tartassatelo Perché chiaramente se volete andare a vedere il video originale Lo trovate sul canale di Carlotta Ma per il momento, signori Mettetevi comodi Prendete patatini e popcorn Perché Ecco, sì L'espressione che vedete là È quella che più o meno penso che avrò per tutto questo video Io da questa parte dello schermo Andiamo un po' a vedere cosa abbiamo combinato Ma bella a tutti ragazzi Bentornati in questo nuovo video E oggi siamo tornati qui No, c'è qualcosa da dire Allora, voi non potete Cioè lo immaginate probabilmente Ma non potete capire quanto ci abbiamo messo A metterci in questo modo Con lei che stava dietro di me Mi ha messo i capelli Ma ci abbiamo messo una cifra Perché poi ogni volta che dicevo Ma bella a tutti ragazzi E ben, scusate E bentornati sul mio canale Perché lei dice la E chiusa Succedeva il bordello Perché mi metteva l'idea come un deficiente E quindi abbiamo fatto sta parte tipo quattro volte Ma come sapete Io sono fortissima a Minecraft Eh? Si corre? Come ci si muove? Vabbè, un modo si troverà prima o poi Eh, giustamente Ho sempre sognato una piscina Una piscina Di terra Intorno ai canguri Gialli Gialli Verdi Oh, questa sarà la nostra piscina Bellissima, Fede Sarà una piscina molto profonda Perché comunque È vietata ai minori di 18 anni È ovvio, no? Quindi È certo, è normale Un po' grande in questa piscina È normale Mi sta scendendo una tetta Mi sta scendendo una tetta Ma sto volando Le leggi della fisica non vogliono questa cosa Le leggi della fisica non vogliono questa cosa Ah, non salto, mi alzo in volo È meraviglioso tutto ciò Ragazzi, quella è la luna Quella è la luna Scusate, ogni tanto mi eccito No, vabbè Ogni tanto mi eccito Perché giustamente Anche le dette erano molto improvvisate No, quelle non me le ha presate Carlotta Quelle erano artigianali Adesso ci divertiamo Fondamentale Ragazzi, ho avuto un orgasmo Proprio è stato meraviglioso Adesso andiamo W Dai Comunque dovrete Scrivermi qui sotto nei commenti Come si gioca a Minecraft Bello Quindi facciamo così Comunque ragazzi Qui sotto lanciamo l'hashtag L'hashtag Che poi di mia spontanea volontà Ho lanciato quest'hashtag Consigliarmi nuove costruzioni Daglie Comunque oggi stiamo costruendo piscine Così Bello Ambigue C'ho litigato È stato un duello emozionante Un duello molto aperto Non ci credo È la stessa cosa Adesso andiamo da Da Esmeralda a Morighelli Nooo Andiamo da Esmeralda a Morighelli Un salutone a Raid Che sa fa? Non ci credo raga Perché lei giustamente Io gli avevo detto Come faccio adesso qua Mi ha detto Devi scrivere cosa ti serve E qui ci ho scrivato a caso T'ha post Mi scendono le tette Purtroppo La vecchiaia si fa sentire Assistente Assistente Quanto è gentile Quando mi stupra Ad esempio Quanto è gentile Quando mi stupra Era un orgasmo È fantastico Potete capire Quanto sollievo mi dia Costruire limoni Questo è quello che succede in Italia Ragazzi Non c'è questa Non mi ricorda Cioè ci ho pensato Oddio Sto strassato Ci ho pensato Stato un attimo zitto Costruire limoni Salice Sono morto Bene Sono morto Non so come sia successo Ma sono morto Ragazzi Come al solito Spero che il video Vi sia piaciuto Se così è stato Un po' di esmerata Morigalli Ti buttiamo là dentro Che poi regale ha detto A 150 like Pubblico il backstage In realtà non l'ha mai pubblicato E siamo a 226 Carlotta Esci il backstage Hashtag nei commenti Carlotta Esci il backstage Ma adesso è arrivato il momento Di dirvi Perché ovviamente Con Carlotta abbiamo fatto un video del genere Perché semplicemente Avevamo fatto la stessa cosa sul mio canale A parti invertite Quindi lei aveva simulato Un mio video Con Aveva anche provato a fare Telecronica E aveva clamorosamente fallito Però comunque vi lascio il video Qui sopra nelle schede Per il momento Comunque signori è tutto Ci vediamo sabato Col video Pazzesco Incredibile Che abbiamo fatto con l'Ultimate Crew Intanto in questa settimana Sui canali dell'Ultimate E di Home Stanno uscendo Le varie challenge Vi ricordo appunto Sabato uscirà sul mio Per il momento Ripeto è tutto Se non lo siete già Iscrivetevi al canale Un bacione E bella raga Io come al solito Come al solito Neanche troppo Sono Noxer E ci becchiamo Con un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao